ok eccomi qua un attimo ok eccomi qua ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi vorrei dirvi a me allora oggi sono andata al dentista per farmi pulire i denti ma in realtà c'erano dei denti che mi dondolavano quindi la dottoressa ha detto che doveva toglierli poi c'era un dente che non sentivo proprio dondolare e quindi ho detto così dai di toglierlo perché c'era un dente che sta un po crescendo la quindi se andava in quel posto andava malissimo quindi l'ho dovuto togliere quindi ho tolto due denti e mi facevano molto male quindi i due denti che ho anche ciò dove sono dove sono i denti che io ho preso letteralmente dove li ho messi non puoi entrare dove sono i denti perché i capelli così strano un attimo arrivo ok eccomi ed ecco qua la bustina con i miei denti quindi qua dentro ci sono i miei due denti che in pratica ho tolto io li colleziono perché da piccola un tipo un dentista mi ha dato un contenitore verde a forma di dente lì ci mettevo tutti i miei denti quindi avevo già messo i denti che ho tolto e quindi ho cominciato questo qua se vedete ghiaccio nessun dentista ve lo darà io l'ho avuto non dal dentista ho visto che mia madre io siamo andate da manco la signora in pratica ha visto che a me sanguinava il caso di giustizio stagione quindi ha detto alla 3 e 6 potevo prendere ghiaccio no ha detto che eh fatto male sia fatto male sabi non sa akin sabi così si però non è fatta male tipo puni ahia ngayon ha cala niente ahia ngayon ha cala niente ahia ok abbiamo tolto ha detto che abbiamo tolto solo il dente quindi lei ha preso il ghiaccio lei ha offerto del ghiaccio ed è molto strano però gentile ha detto che cercava del ghiaccio controllava se c'era ed era molto gentile si sono fortunata perché c'era infatti sono molto fortunata poi loro sono molto gentili loro due grazie mille perché di solito gli altri sono tipo antipatici cattivi quindi questa era la mia avventura di oggi e però questo ghiaccio non si è sciolto quindi da rimettere via però mi metto questo qua di casa che è freddissimo però io ho tolto i denti qua qua e qua il più grande prima io sono fiero di me perché poi dopo mi metterò il coso che si dice ma braces come si dice l'apparecchio ma l'apparecchio ma è l'apparecchio and braces vabbè metterò quel cosi la che si mettono i denti per addrizzarli perché sarà fighissimo però non ho in questo momento però so già che lo farò quindi questo è il mio video di oggi e noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura ciao ciao